Il suo linguaggio 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 Il linguaggio Il linguaggio Il linguaggio Finole Guarda un po', tutta la costa trepe sceglie Sono andato a Olbi, Arbatac, Scagliari, niente da fare. No, ma non è possibile. Sono spariti dappertutto. Ma hai guardato bene. No, ho girato dappertutto. Non è possibile essere solo questi. Poi nonostante quello ho fatto 200 chilometri molto in fretta e sono morti lo stesso. Mi sa che cambio mestiere, non c'è più niente. E' una cosa incredibile. Si sa che cambio mestiere qui. Ipertinenza! E' incredibile! Dove li prendiamo i soldi? Famili sempre! Nella montagna non c'è più niente. Anche il mare. Allora, cosa vuoi fare? Domani avremo qui di prima persona un funzionario che potrà rispondere di questi problemi qua. Io vi invito da calma, a star sederti, perché è vero che la miniera non produce più niente. Ma è vero che la miniera non è un pescoso. Ma è anche vero che io ho sensibilizzato le persone con il tene. Da diverse volte ho telefonato a un funzionario che vorrà di persona a rispondere a questi problemi che il paese ha. Anche tu non lavori, stai sempre giocando. Amatevi, abbiate fiducia, ascoltatevi. Autore dei sottotitoli conti Grazie.